Salve, tempo fa mi è stato chiesto di rispondere a delle considerazioni di morte bianca proposte nel video che abbiamo fatto assieme sulle tesi di Emanuele Severino e quindi ora provo a rispondervi. Dunque, lui ha sostenuto che il problema nichilistico del divenire potesse risolversi già ad esempio con Aristotele, sostenendo che un sostrato fosse sufficiente per giustificare la variazione delle determinazioni di un ente in modo non nichilistico, attraverso, nel caso di Aristotele, al passaggio dalla potenza all'atto. Tuttavia, quel passaggio non elude i problemi nichilistici evidenziati da Severino, che riguardano qualunque aspetto della realtà, quindi anche una qualunque determinazione, anche una qualunque sintesi, un qualunque rapporto, non può variare nel senso di prodursi, annullarsi e trasformarsi divenendo altro da sé. Quindi il passaggio dall'atto alla potenza non eluderebbe tali problemi, intanto perché il passaggio in questione trasformerebbe l'essere in potenza in altro, cioè in essere in atto. L'essere in potenza implicherebbe l'essere nulla da parte dell'essere in atto e viceversa. Il sostrato posto da Aristotele non salverebbe dal divenire nichilistico le determinazioni di un ente e del rapporto tra essa e il sostrato. A ogni variazione nichilistica corrisponderebbe l'annullarsi e il prodursi di qualche rapporto, di qualche sintesi tra il sostrato e le sue determinazioni, e queste ultime sarebbero destinate a un divenire nichilistico. La stessa cosa accade pensando a una realtà fisica composta da atomi e particelle eterni. Anche se, riprendendo l'esempio del legno che arde che ha proposto Severino, la legna che arde e si crede nel nichilismo diventi cenere, anche se pensata come un insieme di atomi, non elude i problemi da lui evidenziati. Perché, sebbene dal punto di vista fisico-fisicalista, si possa pensare che gli atomi della legna rimangano eterni e che gli atomi della legna siano sempre gli stessi anche quando vi sono quelli della legna, della cenere. Nella cenere cambierebbe la disposizione, la quantità degli atomi, perché una parte degli atomi sarebbe andata via con la combustione, si sarebbe spostata da quella configurazione e comunque quelli rimanenti avrebbero assunto una configurazione diversa, una disposizione geometrica nello spazio diversa dalle altre configurazioni. Tuttavia, in una realtà fisica, anche la sintesi, la disposizione degli atomi in un certo rapporto, in una certa configurazione, sarebbe un insieme di essenti, di determinazioni, che sarebbero destinati ad annullarsi e prodursi e diventare altro da sé. Motivo per cui fare appello all'idea di atomi eterni non elude il problema affermato da Severino riguardo alle configurazioni di quegli atomi, che appunto oscillerebbero tra l'essere e il non essere. E ciò, secondo il discorso severiniano, è impossibile per qualunque aspetto dell'esistenza. Adesso provo un attimo ad approfondire come Severino giustifichi la variazione senza porre qualunque forma nichilistica per nessun aspetto della realtà. Allora, intanto, secondo le implicazioni di tale ontologia, la realtà autoappare a sé stessa, secondo la triplice strutturazione dell'apparire. Ogni coscienza è in realtà un cerchio del destino, cioè è come uno specchio che si autoriflette attraverso una triplice struttura dell'apparire, che si autoriflette in una forma di autocoscienza, di coscienza dell'autocoscienza. Questa triplice struttura è l'apparire dell'apparire dell'apparire, ovvero a, diciamo, a livello sensibile empirico si manifestano dei contenuti, ma si manifesta anche il loro apparire, ovvero anche il loro essere manifesti. È un fatto manifesto, implicato immediatamente nel loro manifestarsi empirico. E anche l'apparire di questo fatto è immediatamente implicato da quelle due forme dell'apparire, che sono quindi co-originarie e inseparabili, e quindi permettono questa forma dell'autorispecchiamento della realtà in sé stessa. Quindi la realtà, secondo tale ontologia, non appare a un soggetto, ma appare al cerchio del destino, che, se vogliamo, è il vero soggetto. Cioè la realtà è il vero soggetto che sperimenta se stessa. Perché non è soggetto e oggetto nel medesimo rispetto, ma secondo una strutturazione complessa, ma comunque originaria. Ora, Severino chiama il cerchio del destino persi in tassi, cioè la struttura permanente che non incomincia ad apparire, ma che è eternamente presente. E chiama i posi in tassi il contenuto che incomincia ad apparire nella persi in tassi. Ora, anche l'io empirico, anche il soggetto con le sue emozioni, i suoi sentimenti, i suoi pensieri, è un insieme di determinazioni ipo-sintattiche, che hanno un incominciante apparire. Severino ha spiegato che, oltre il nostro livello ordinario di esperienza cosciente, deve esistere una dimensione ulteriore, detta apparire infinito, dove tutte le configurazioni passate e future rispetto a quella presente sono ed appaiono eternamente, come una pellicola di fotogrammi, che a noi appare processualmente una parte alla volta, mentre invece nella coscienza infinita appare tutta ordinatamente insieme. In quella pellicola vi sono anche gli incomincianti apparire di ogni configurazione, che sono a loro volta eterni e sono già incorporati nell'apparire stesso di ogni configurazione. Quindi ogni configurazione che riguarda la nostra esperienza ha già in sé incluso il suo incominciante apparire, che quindi è un eterno a sua volta. Chiarisco anche che il senso dell'eterno qui non è la sempi-eternità, ovvero non è l'esistere in ogni istante temporale, ma è l'affermare che ogni cosiddetto istante temporale sia eterno atemporalmente e che dunque il tempo sia un insieme di configurazioni eterne concatenate in un certo modo tra loro, dove anche il passaggio da una configurazione all'altra è un eterno, ovvero è l'apparire della traccia della precedente configurazione e della sua sopraggiungente, che è quella successiva. E nessuna è separata da questa modalità rispetto alle altre, sono tutte insieme. Quindi anche l'esperienza della variazione non è il movimento di qualcosa che si sposta e fa apparire altro, ma è l'apparire di una parte successiva rispetto alla precedente. Ora, questa situazione potrebbe sembrare comunque comportare qualche trasformazione nichilistica, ovvero potrebbe sembrare che il rapporto tra lo sfondo del proprio cerchio, la persintassi, e l'iposintassi vari continuamente, ma in realtà non è così perché la congiunzione tra il proprio sfondo e ogni contenuto che incomincia ad apparire è già dispiegato eternamente, nel modo in cui poi lo viviamo anche noi, dalla prospettiva della coscienza infinita. Tutto il percorso degli incomincianti a apparire e della loro sintesi con il nostro cerchio del destino è già dispiegata, potremmo dire in atto, ma noi, essendo la modalità finita e non infinita, anziché sperimentare tutto insieme questo percorso, lo sperimentiamo in questo modo, una parte alla volta. Ma questo apparire di una parte alla volta di questi strati dei nostri cerchi del destino non è il cambiare i precedenti stati o i precedenti rapporti tra i posintassi e i persintassi nei nuovi, ma è appunto semplicemente questo tipo di modalità in cui nessuna sintesi, nessuna determinazione va ad aggiungersi o va ad annullarsi o trasformarsi, perché tutta quella concatenazione di eventi è già dispiegata eternamente ed è già in sintesi con il cerchio del destino di ciascuno. Detto ciò, la realtà quindi prospettata da Severino è radicalmente eternistica e nega quindi qualunque forma nichilistica di divenire, motivo per cui la concezione aristotelica o quella fisica, fisicalista o altre analoghe non riescono a eludere i problemi osservati da Severino e che quindi rimangono delle critiche a tali prospettive. Poi ha parlato Mortebianca del problema della differenza tra gli enti e che tale differenza possa comportare, seguendo il ragionamento di Severino, una forma di contraddizione, ovvero che il ragionamento fatto da Severino per negare il divenire potrebbe applicarsi anche per negare la molteplicità degli enti, la loro diversità, la loro differenza, in quanto affermare che una mela è una mela e non un tavolo significa affermare che sia e non sia al tempo stesso, se non che a ciò risponderei facendo notare che l'essere mela dalla parte della mela non coincide con il suo non essere un tavolo, ma è essere mela per un certo rispetto e non essere un tavolo per un altro. Quindi i due tratti della determinazione dell'essere mela non entrano in conflitto, non coincidono e quindi non creano una contraddizione e anzi, secondo la struttura originaria, la coincidenza della mela con se stessa implica il suo differire dal tavolo e da tutte le infinite altre cose e quindi implica anche la loro presenza in forma astratta, a un livello formale implicito, come essenti negati da essa, ma negati non in senso assoluto, anzi appunto richiede e rimanda alla loro presenza concreta e e tiene presente in essa le loro forme, i loro richiami in forma astratta. Quindi l'essere mela da parte della mela implica il suo differire dal tavolo, il suo non essere relativo, cioè il non essere relativo che è il non essere il tavolo, la nuvola eccetera. Però appunto questo non essere, oltre che non coincidere con l'essere mela da parte della mela, ma anzi ne fa parte in qualche modo, perché non vi è identità senza il suo differire dalle altre e viceversa, è un non essere relativo, non è un non essere assoluto che sarebbe impossibile, contraddittorio. Questo è ciò che ritengo riguardo alle tesi severiniane, ringrazio ancora Mortebianca per il video fatto assieme e vi auguro buona riflessione.